oh eccoci qui eccoci qui buonasera a tutti buonasera panzi buonasera gretti ma come state belle io te lo dico sarà no sense tanto non è la prima volta che la gara mamma rai ci tanto speriamo che non ci dai copie ai strike perché la rai in realtà dovrebbe avere qual no boh non lo so poi vediamo al massimo lo ricarico su youtube mi chiudono il canale e vaffanculo tutto ci sentiamo e vaffanculo tutto ok oggi siamo a francoforte con il server cercherò di non togliere comunque troppo tempo alla live di elder ring per questa cazzata però ho visto veramente che ha fatto tanto scalpore che tra l'altro questo senatore ha risposto in teoria anche a player inside io ho cercato di non guardare il servizio perché volevo vederlo stasera i live con voi dato l'ha ricaricato un grandissimo di nome the path e ho visto soltanto tra virgolettoni la risposta che ha avuto player inside perché a quanto pare questo senatore ha detto io non accetto la vostra risposta e la vostra critica perché uno di voi due ha la maglietta della nintendo ok senatore ok dato io non ho controllato il fatemi non ho controllato come è andato il coso il donna non mi ricordo il la votazione chiamiamola così ma buoni siamo come cazzo si fa non si può vedere da pc si può vedere da pressi brutalmente e io ho veramente paura perché comunque non è la prima volta che la nostra cara rai fa questi servizi se possono chiamare così fa queste cose dove demonizza a da qualsiasi roba che sia lontanamente lontana dalla dalla cultura dell'italiano medio è perché mo quasi parla dei videogiochi negli ultimi anni videogiochi sono stati sempre presi di mira perché diciamo che sono il medium che più si sta diffondendo anzi è uno penso mi pare che è il secondo mercato qualche roba così comunque uno dei mercati più grandi che esistono al mondo e quindi diciamo che è un po come sparare sulla croce rossa vagamente e io non so sinceramente cosa aspettarmi perché tutte le volte era è uscito gta e violenza facciamo di tutta l'erba un fascio e cose così ma in generale c'è uno parliamo si chiari ragazzi uno dalla rai tv vista prettamente dall'italiano vecchio mel dal italiano medio e dai vecchi che sono abituati sono abituati a vedersi tipo 47 stagioni di don matteo a vedersi pacchi e altre cazzate del genere diciamo che devi dare al tuo viewer quello che vuole ovvero qualche cosa per poter rompere i coglioni io spero adesso di non io spero che adesso veramente non ci credo neanche io però secondo me esageranno intanto fatemelo cercare su youtube mi pare che si chiamava tg1 ma tra l'altro è uscito su rai 1 su rai 1 è uscito sto coso io non ho io non non ho parole approfitto per andare un attimo in bagno per tornare ci vediamo a breve sarà partendo il be right back non lo so perché ho cliccato a 5 minuti buonasera arloc come stai bello si può parlare di droga esplicitamente su twitch tecnicamente del discorso si basta che non dici compratela perché è buona da che vuole mo lo sbotto si tanto lo sapete io adesso mi incazzo come una faina come stai arlo come stai iniziamo a vedere questo opprobio di di robo perché tanto so che mi incazzo come una faina io lo so che mi incazzo come una faina fatemi vedere che mi racconti di bello tg1 contro i videogiochi puntata intesa ho 9 minuti neanche ma aspettavo più come mai questa idea perché è una cosa sinceramente che c'ho a cuore cioè so che io comunque su twitch sono un signor nessuno però secondo me è una cosa che che vale la pena di vedere e criticare perché se non siamo noi in primis se le persone che ne parlano di questa discussione di questo argomento non sarà mai nessuno a farlo anche perché tanto poi su rai 1 l'hanno messo sto cosa io non lo sapevo fosse su rai 1 l'ho scoperto pochi minuti fa calcolate se non ne parliamo noi non ne parla nessuno perché tanto in queste trasmissioni prendono soltanto sempre la gente che dice sei una merda comunque insieme allora ditemi se l'audio si sente i timori così come prima la pandemia da cui non siamo del tutto usciti timori che si affacciano soprattutto a terzo addirittura quella dei giovani giovani che si aggrappano poi in qualche modo alla rete ecco in questi due anni i dispositivi digitali connessi al web sono stati fondamentali lo sappiamo però questi due anni ci hanno anche insegnato quanto sia importante anche la presenza fisica l'incontro fisico tra le persone gli spazi reali siamo su 33 secondi allora parte che è un modo di iniziare un di iniziare un come si cazzo si chiamano queste cose dio un un servizio veramente di merda è perché sembra che stiamo parlando di non so della morte però a me a me una cosa che mi fa incazzare no non aspetto un minuto perché a me una cosa che mi fa incazzare come una faina e la sento e risento da anni ormai è sta cosa di è perché loro si intrattengono nelle cose non reali e abbiamo bisogno delle cose reali di non trovare sempre sta cazzo di cosa della realtà quando sto discorso lo fanno sempre quando gli fa comodo è una cosa che mi fa uscire dai gangheri perché quando qualcuno si legge un cazzo di libro che cazzo ne so il signore degli anelli di tolkien non rompe il cazzo di nessuno che quello si sta divertendo nel cazzo di nulla è una cosa proprio che è lungo il video e allora il web è pericoloso oppure una risorsa oppure tutte e due le cose insieme però serve regolamentare ok ok il web può essere una cosa brutta come una cosa bella è come i coltelli tu ci puoi tagliare la carne e puoi accoltellarci tua madre raggiunto in studio andrea cangini di questo parliamo con lei senatore di forza italia componente della commissione istruzione al senato non voglio fare politica scrittore di un libro che si chiama coca web come scusa scrittore di un libro che si chiama coca web ma che cazzo di nome è per un libro ma poi scusa ma allora adesso perdonatemi comunque sentire un politico che che scrivo un libro che si chiama coca web è una cosa cioè è veramente il toro che da del cornuto al bue cioè non so come dirlo perché ovviamente ma va 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 scrittore di un libro è una sintesi un po' del lavoro che avete fatto no in commissione istruzione dove avete raccolto delle testimonianze importanti di professionisti specialisti esattamente abbiamo invitato i maggiori esperti psicologi neurologi pedagogisti grafologi l'importanza della ma che cazzo servono i grafologi scusatemi è trascurata che hanno studiato l'impatto del web sulla mente e sul corpo dei più giovani il quadro è devastante da vedere le recensioni non superano le due stelle delle chissà perché sarà un libro oeeh non è un'esagerazione i neurologi ci hanno spiegato che i meccanismi chimici cerebrali innescati dall'uso che non può che degenerare in abuso di social e video ma che cazzo d'affermazione è? cioè no aspetta questa cosa però la risentiamo i neurologi ci hanno spiegato che i meccanismi chimici cerebrali innescati dall'uso che non può che degenerare in abuso che non può che degenerare in abuso cioè praticamente questa affermazione significa che se tu giochi ai videogiochi prima o poi ne comincerai a fare abuso e svilupperai pato cioè praticamente boh neanche ti facessi di canne come una scimmia non so i social e i videogiochi sulla mente umana soprattutto sulla mente dei più giovani sono identici letteralmente identici a quelli della cocaina si secerne l'ormone che trasmette la sensazione del piacere si secerne l'ormone che produce piacere si chiama dopamina che cazzo di paragone è si chiama dopamina zio la dopamina l'ormone del piacere anche detto dopamina è un ormone che noi rilasciamo ogni qualvolta facciamo un'attività che ci provoca del piacere che sia una cosa per divertimento che sia qualsiasi roba per questo la droga è pericolosa perché tu diventi dipendente dalla droga perché questa quando tu la sniffi la fumi non so come cazzo si usa la droga scusatemi quando tu utilizzi queste sostanze ti provoca dei picchi appunto di dopamina per questo poi ne diventi e ce stai sotto perché ti dà piacere tu non puoi paragonare la droga a una cosa che uno fa per piacere poi pedagogisti e grafologhi eh grafologi mi raccomando i grafologi che sono importanti per chi non sapesse i grafologi sono quelli che studiano la personalità attraverso il modo in cui scrivono le persone piccola perla così che è un'affermazione che non c'ha senso perché io penso che una qualsiasi persona che fa una cosa che gli piace produce dopamina cioè se a voi vi piace il calcio e andate a giocare a calcio producete dopamina se vi piacciono i videogiochi e giocate ai videogiochi dopamina vi piace leggere dopamina è è quello che ci provoca piacere che cazzo dobbiamo tornare nel medioevo lavoro e preghiera ma che ma vaffan beh guarda a me sta zitto questo questa è un'affermazione giusta invece il senato qualsiasi cosa proprio di produzione e si ma perché tecnicamente è quasi vera questa cosa cioè tu puoi drogarti tra virgolettoni bene o male con qualsiasi cosa ma ogni cosa ha il suo rovescio della medaglia cioè nel senso che cazzo ne so basti pensare all'esempio cazzo ne so del calcio in Italia il calcio è una cosa bella che ci provoca piacere sì però intanto in cima agli spalti la gente si massacra oppure la gente invece di andare a vedere la partita di calcio comincia a lanciare le bombe carta vuol dire che il calcio è merda per forza no è che purtroppo di ogni cosa positiva c'è la sua controparte negativa ma so che questo non è un esempio adatto però ok mentre qua ha detto una cosa molto giusta ha detto ok poi a un certo punto diventa difficile staccare i propri figli eh madonna di sti capelli diventa difficile staccare i propri figli dei telefoni ma quella purtroppo è una cosa che si genera purtroppo quando tu fin da piccolo abitui tuo figlio che gli prendi il telefonino appena rompe i coglioni e glielo ficchi in canna perché per qualsiasi cosa tu devi saperla devi imparare il tuo figlio ad utilizzarla sei tu il cazzo di genitore porca troia lui è nà lui non sa un cazzo come fa a sapere che sai non deve passare 45 ore della giornata sul telefono e non diventare un rincoglionito perché tu gli devi insegnare ehi Jimmy mi raccomando ti do questo telefono perché è utile perché ci vuoi fare un sacco di cose perché ti serve per fare qualsiasi roba è uno strumento che ormai serve a tutti per forza anche per lavorare però mi raccomando non drogarti con questa roba non farti partire le retine su questo robo perché altrimenti sono cazzi amari ma andiamo avanti scusate siamo a 1 minuto e 50 non lo finiamo più tutte le patologie essere giovani non è mai stato facile ma mai come in questa fase storica tutte le malattie mentali disagi disturbi alimentari l'autolesionismo l'aggressione sono in crescita in crescita vertiginosa da quando le console questo ecco stava a dire questa informazione non so se può essere vera e mo sta di agazzata l'autolesionismo l'aggressione sono in crescita in crescita vertiginosa da quando le console dei videogiochi sono entrate nostri figli e soprattutto cioè vedete poi perché io mi incazzo io stavo per dare ragione potrebbe essere effettivamente vero che cose come la depressione effettivamente la nostra generazione più altre generazioni sono delle generazioni che sono praticamente depresse e non sanno che cazzo fare del loro futuro quella era una cosa poi peccato che poi ci deve mettere sempre la merdata nel medioevo i ragazzi stavano a 30 anni eri un vecchio c'è dici madonna zio 30 anni cazzarola ti prendevi l'influenza morivi però va bene gli stavo quasi per dare ragione poi ho dovuto dire la cazzata che queste cose sono aumentate da quando le console sono entrate in casa nostra come se fossero boh ci hanno messo il l'uranio nelle console che cazzo quando 2007-2008 lo smartphone è entrato nella loro disponibilità e la loro capacità cognitiva mentale progressivamente si sta riducendo questa è la prima generazione c'è stato spiegato questo non so sarei curioso di vedere effettivamente i dati eh perché il fatto purtroppo è che il quotiente intellettivo è una cosa che non c'ha senso perché quest'epoca per i ragazzi sì ma assolutamente ma soprattutto in Italia siamo figli di un sistema economico vabbè ma non mi metto a fare queste cose perché non sono la persona più esperta di cui parlare di questa roba però che cazzo stavo dicendo aspettate fatemi ricordare ah del quotiente intellettivo questa è una cosa che io sarei curioso di avere i dati alla mano ma al tempo stesso me perché i test che facevano tot tempo fa cioè erano praticamente i test che facevano negli anni quaranta cioè i test ma in generale come veniva non studiato ma calcolato il quotiente intellettivo di una persona diciamo che era un po' una merda un sacco d'anni fa perché non tenevano in conto tantissime robe cioè loro ti facevano due quizetti de merda ti facevano fare un po' de robe de logica e basta mentre adesso bisognerebbe prendere anche in considerazione l'inventiva la creatività la... oh mio dio non mi ricordo come si dice non la tendenza però la capacità che una persona ha per una determinata cosa cioè magari io non sono portato per fare matematica ma sono portato per sono un poeta con i controcoglioni che leopardi mi succhia la wallera nel senso capito? cioè purtroppo noi abbiamo un sistema che è fatto così è fatto a stampino cioè tu vai ai superiori ti devi imparare to 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 se non te lo impari sei un coglione ed è una cosa sbagliata perché se tu dici a una persona che magari è portata per un'altra cosa sei un coglione perché non mi sei fatto due più due è un po' una merda nel senso come diceva Einstein tu non puoi insegnare che cazzo diceva qualche cosa con l'albero no? cioè tu hai una cosa che non sa salire sull'albero non gli puoi fare il test per salire sull'albero perché quello non c'è capace a farlo fagli fare qualcosa in cui è capace e valutalo su quello però scusa cioè perdonate che sto parlando così tanto è riuscito sabbaco e la cazzata non era mai successo nella storia dell'umanità secondo me questo è il tema di questa vabbè nella storia dell'umanità poi vabbè per cercare di governare il fenomeno non si può invertirlo ma è il dovere della politica governare fenomeni così complessi che danneggiano in maniera così evidente i più giovani basta che poi non fai come in Cina che c'hanno tipo i codici e cazzo le robe in cui possono stare tipo due ore sul web e poi chissà che cazzo si mettono a fare perché altrimenti te vengono un cazzo ti arrestano e te si portano via però ok mi auguro perché ti senti stupido Arlo perché non sai fare due più due non dirlo poi vedo il senato ecco c'è un termine coniato dai cinesi di cui lei parla nel libro che indica quell'atteggiamento che ormai è inconfondibile lo vediamo ovunque e non caratterizza devo dirlo soltanto i giovani quello con la testa chinata sullo smartphone non ci si guarda più in faccia non si legge più un libro sembrano delle banali ogni volta che parlano per telefono dicono sempre quelle tre cazzo delle cose in croce non si parla più non si legge il libro stanno sempre attaccati allo telefono ecco bravo zio l'hai detto tu guarda l'hai detto tu non l'ho detto io io non sono un antipodernista credo nella tecnologia e nel progresso ma certe cose non possiamo negarle testa china perché siete dei coglioni cioè è quella purtroppo la realtà perché siete dei coglioni perché l'oriente in particolare il giappone ed altre cose nella nostra economia nelle nostre vite ci stanno entrando ormai da anni e non solo con i videogiochi perché purtroppo sapete qua il fatto è che i videogiochi ormai essendo che è uno dei medium più grandi e che hanno un'economia enorme praticamente è come la croce rossa quindi sparano sempre là però è da anni ormai che l'oriente con manga, anime, videogame o in generale la loro cultura si sta insinuando da noi e qua se la cosa si può dividere in due cose sia sotto il punto di vista sociale e sia sotto il punto di vista economico perché se in Italia voi noi non avessimo fatto le teste di cazzo perché mo io per esempio non potrei parlarne di questa cosa però già le generazioni ma che ne sai il senatore si ha fatto soltanto un libro ha assunto gli specialisti di sto cazzo però ed è andato su Rai 1 al telegiornale ma va bene io per esempio non potrei parlare di questa cosa ma già le generazioni quelle prima di me se per sbaglio si veniva a sapere che tu giocavi ai videogame leggevi manga o guardavi gli anime era la fine perché veramente qualche anno fa essere un nerd era visto come essere la merda e se per sbaglio eri anche un qualcosa nella nicchia di queste categorie tipo una ragazza magari che si voleva leggere gli yaoi era la fine manga, anime, videogame in Italia erano demonizzati come la merda se tu leggevi un manga ma manco te stavi a leggere il Minecraft cioè stavi letteralmente con la svastica qua era meglio piuttosto però invece se noi ci fossimo fatti furbi ci fossimo fatti furbi noi avremmo potuto imparare tantissimo dall'Oriente e magari avremmo potuto anche migliorare la nostra situazione economica perché invece di sai demonizzarli come la merda abbracciamoli e possiamo fare potevamo partecipare a uno dei mercati più grandi che ci sono oggigiorno ovvero videogame vabbè che poi non è che non ci partecipiamo per carità però avremo meno pezzo al culo perché noi siamo sempre abituati purtroppo noi abbiamo l'italiano medio che è abituato a vedersi quelle quei due cazzo di fumetti di merda che ci stavano in Italia le 25 stagioni di Don Matteo e i pacchi quindi appena sbuca qualcosa di nuovo fanno no che è sta roba se non se può fa demonio per forza mentre sotto il punto di vista sociale è proprio il fatto che Oriente e Occidente sono totalmente differenti non non puoi paragonarli tu Oriente e Occidente non puoi paragonarli sì ci siamo magari influenzati a vicenda ma non sono paragonabili perché basta che proprio la base di cui stiamo a parlare in questo video i videogame se tu vedi la cultura del videogame che c'è in Giappone è completamente differente da quella che c'è in Occidente cioè basti vedere le sale giochi io ogni tanto vedo i video della gente che esce dalle superiori va a giocare nelle sale giochi e fa delle robe che io sto tipo là ho fatto porca troia perché lì sotto il punto di vista competitivo delle sale giochi ma della cultura in generale dei anime videogame e manga è un'altra roba totale quasi un paio di generazioni ci siamo pure sì e e c'è sta c'è proprio che alcune robe che stanno in Oriente molte volte non vengono da noi come molte robe che stiamo da noi non vanno in Oriente quindi non boh ma a meno che non stiano parlando degli Ikikomori ma mmm c'è c'è quello è un altro argomento non è videogame Ikikomori c'è il videogame magari è un mezzo o una tappa ma non è quello prima che da noi dove ci sono milioni milioni di ragazzi in cura dove si stanno cercando di limitare con norme di legge l'uso dei telefonini perché è una pandemia è una malattia è una dipendenza a tutti gli effetti ma perché devi dire queste perché cioè questa è una cosa che mi fa inca... perché devi porre così le cose? cioè capite che se io parlo ma i coltelli sono buoni o sono cattivi? Gesù è un coltello si posso accoltellarci una persona ma se sono sano di mente c'è tagli e verdure non per... secondo lei non parleranno di... tecnicamente stiamo parlando di video vabbè che... boh vediamo a proposito di dipendenza ci sono dei luoghi in cui si cura questa dipendenza una è la comunità nuovi orizzonti ma poi scusi io... io sto parlando ma dietro stanno facendo vedere soltanto... cioè... quello che cazzo è wipe out cioè... stanno facendo vedere tutti i giochi che in realtà sono molto... cioè... come ti posso dire? attivi cioè come prima stavano parlando del quotiente intellettivo c'è sta la gente che gioca ai gestionali che veramente... lasciamoli perdere o gente che gioca anche agli sparatutti che c'ha dei riflessi della madonna vogliamo veramente... cioè... vabbè eh... un giovane sta cercando di smettere di staccarsi dai dispositivi dalla rete e dal web la testimonianza l'ascoltiamo l'ha raccolta Elena Di Vincenzo la mia esperienza è stata un'esperienza che dipendenza dal web quando proprio agli avvori del web all'inizio degli SDN va giovane del... della terza età questo va giovane dove scusate ma questo ci avrei figli cioè vabbè che mo pure io piano piano andrò verso i trent'anni eh cioè... ma... poi all'epoca degli SDE cioè... porca... il 56k proprio ci abbiamo qua... pensando di costruirmi una vita irreale soprattutto senza le relazioni sì ma aspettate beh 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 ma tante sposati ma questo non è... io nel caso la faccio ripartire un po' ed è era una vita contraria quindi dormivo dormivo di giorno stavo sveglio di notte ah ecco stavo dicendo qua che mi stavo rincazzando pure su sta cosa che ha appena detto perché... io non so... io penso di non essere... eravamo alla... all'anello vabbè che è sposato che è un ikikomori questo non... vabbè... la cosa che a me mi fa incazzare non credo di essere l'unico è quando mi dicono sempre è... tu dormi di giorno e... e... stai sveglio di notte e quindi... e quindi... cioè lasciamo stare la base del tipo io sono una persona più attiva di notte cioè ho la mia vita sociale di notte e compagnia ma metti caso che io la notte è l'unico momento in cui posso sentirmi con i miei amici la notte lavoro la notte studio la notte esco la notte mi faccio i cazzi miei perché è strano perché tu dormi de notte e... del giorno fai le cose io invece faccio il contrario cioè... perché deve essere una cosa brucia? questa è una... è una cazzatina lo so però è una cosa che io sento dire tantissimo che... eh... tu dormi del giorno e quindi... magari io... stanotte mi sono fatto sei ore di lavoro mentre tu stavi dormendo e... e ho amici che lo fanno anzi si fanno i turni anche da dieci ore però lasciamo perdere speriamo intanto che ritornino quei cinque spettatori non ci credo molto per gli standard dell'utenza del Tg1 che sono i vecchietti sì sono arrivati i giochi sono arrivati i primi social il messenger di windows ma poi infatti scusa ma con l'SDN ma che cazzo me stai a parlare dei video vabbè e lì... ehm... mi sono proprio... concentrato su quello cercando di... anche di chiudere... tutto il dolore che avevo dentro per... perché... perché questo... comprimere tutto e non sentire più niente perché questo è un Ikiko Mori questa è una persona... come lui è giovane mi sta nel Tg1 per me sì... ehm... questa è una persona... che purtroppo inizia con... non voglio... ehm... non voglio avere delle relazioni non voglio... avere dei rapporti dei contatti con le altre persone e quindi piano piano mi chiudo poi... se trova... gli anime... trova i manga... trova un qualsiasi robo eh... perché... so che ormai noi siamo abituati agli Ikiko Mori che sono... anime, manga e videogame perché c'è la... tutti cazzo di Robby però questa cosa può succedere con una qualsiasi cosa perché è un mezzo non è il risultato cioè... se tu giochi i videogiochi non... non entri in questa cosa perché questa cosa poteva succedere come con i libri come con i manga come con i videogame come con qualsiasi cosa ho chiesto aiuto alla comunità poi sono contento che è stato aiutato è stato... si è rimesso... quanto ho capito si è rimesso in piedi ha fatto un lavoro per rinserirsi nella società e tutto quanto perché i Ikiko Mori comunque sono una cosa che piano piano sta crescendo soprattutto con la società che ci abbiamo oggigiorno e va... sono contento per quello ho iniziato il percorso di vita nuovo proprio legato sull'arte da amare e... la mia vita piano piano è cambiata in maniera graduale orientandomi sempre sulla... ma è un cuoco adesso la vita è cambiata molto sono papà marito papà di due figli di una bambina e un bimbo cerco di... donandomi giorno dopo giorno vivendo... periodo dopo periodo come Chiara ci insegna l'arte da amare e la spirit therapy di crescere e di essere sempre più cosciente come vivo cercare di non perdere tempo nelle cose che... che sono irreali e vivere il più possibile i tuoi coglioni questa cosa delle... dell'irreale penso che era per prendere un esempio di qualcuno che si può recuperare o salvare ma... non è una cosa che mi da sempre fa sì questa cosa dell'irreale quando a me veramente mi fa male al cuore sentire gente che nomina il web perché qua in realtà è un mischio di roba perché qua sia web che videogiochi mi... mi fa veramente male al cuore sentire gente che... vede come finte queste cose ma non tanto per il videogioco di per sé o altro ma anche magari a tutte quelle persone che veramente non stavano bene nel loro ambiente nel loro gruppetto di scuola e qualsiasi altra roba che... magari facendosi un account su Discord entrando in qualche Discord hanno cominciato a trovare effettivamente degli amici e delle persone con cui chiacchierare stare passare dei... cioè... mi fa veramente male al cuore cioè sentire dire dalle persone che quella roba è finta quella roba è irreale fa veramente male perché... con tutti sti cazzo di... grafologhi specialisti e cazzi mazzevari potevano fare veramente un altro lavoro cioè prendere l'argomento e trattarlo sia nei suoi punti forti che nei suoi punti deboli e no invece come al solito dobbiamo calcare sempre su quei tre punti del cazzo e... e fare come se nulla esistesse perché tantissima gente che conosco anche già con una cosa stupida perché non stupida però con una cosa piccola come Discord hanno trovato tantissima gente con cui parlare con cui stare con cui discutere con cui diventare amici poi più che... esatto è brutto anche dare questi argomenti a una persona che non conosce perché finché lo ascoltiamo noi facciamo su tutte cazzate e ti spiego il motivo se questo tu lo fai... questo servizio tu lo fai vedere a un vecchietto pensa che il nipotino che gioca a Fortnite o che gioca col telefono eh... morirà di... di overdose poi se in più ci metti che un argomento del genere viene dato dato da un senatore appunto che... per quanto mi calcola può anche essere quello che mette le scope a posto nel senato cioè... sti cazzi poteva essere anche il generale di sto cazzo come il Papa a parlare siamo esseri umani tutti e due non me ne frega un cazzo del... del grado della carica che ha però... cioè se tu fai il libro con Kogaweb fai sto servizio che fino ad adesso sembra che i videogiochi sono una droga te fanno diventare incoglionito eh... te fanno via depressione te fanno diventare Niki Gomori e cazzi e mazzi e lo fai vedere a una persona che non gliene frega un cazzo all'italiano medio quello capirà soltanto la merda e come al solito finirai per demonizzare una cosa e se magari prima c'erano dei genitori che cercavano di avvicinarsi anche all'argomento dei figli se tu gli fai vedere questo coso e non riescono a fare due più due capendo che è una cazzata questa cosa tu magari rischi anche di rovinare quei piccoli sbricioli di rapporto che ci stavano perché voi non sapete quanta gente ma penso che qualsiasi gamer che io non so adesso sto video sta live se qualcuno la vede però io immagino che tantissime persone qua videogiocatori o in genere gente che sta sul web se sarà mai sentito dalla madre e dal padre eh stai sempre davanti al computer stai sempre a giocare stai sempre a fare e cazzi e mazzi vari esci fuori conosci una di queste frasi qualcuno di voi se la sarà per forza sentita dire almeno una volta nella vita esatto fatal poi recuperati la live perché è stata eh io penso di non aver mai argomentato così tanto in vita mia ehm cioè io penso che a me almeno una volta o due in vita vostra ve le siete sentite nella gratitudine che devo dire che ho avuto nella mia vita come stai padre comunque quindi gratuitamente ho ricevuto gratuitamente cercherò sempre di dare colpisce questa testimonianza no perché non ma non sono casi rari in italia si stima che ci siano 100.000 quelli che in giappone chiamano i kiko mo ah ok io usano sotto anche il termine tecnico vivere in disparte in giappone sono più di un milione ragazzi ma anche trentenni che vivono perennemente chiusi ne nonostante aspetta quello non è un trentenne se quello era vi campava durante il periodo del 56k quello è duretto eh costantemente connessi a una realtà che non esiste basta con sta cosa della realtà che non esiste porca madonna la prossima volta che vedo qualcuno leggere un libro porca troia gli arrivo lì glielo sbatto in faccia e gli faccio questo non è reale vattene a fanculo porca troia porca troia dio cristo che fastidio io non ho mai sentito qualcuno che va a rompere il cazzo a qualcuno che legge un libro che gli va a dire eh ma quello che stai leggendo è finto perché ti provoca piacere perché quello si deve girare poi ti dite perché mi piace leggere i libri porca troia vaffanculo perché questo discorso si può fare con qualsiasi cosa con i film perché i film non sono veri che cazzo te li vedi a fare sono finti perché mi piace vedere i miei film porca troia per tutto si può fare perché cioè durante questo come si chiama durante questo sto video di merda perché è un video di merda stanno facendo vedere solo la merda sì esatto fatal cioè questo video sta facendo vedere solo la merda e la sta caricando ancora di più perché io da giocatore lo ammetto io da giocatore lo ammetto che ci sono alcune tipologie per esempio di videogiochi che fanno schifo che sono fatti apposta per tenerti attaccato al allo schermo o ci sono alcuni tipi di videogame che sono fatti apposta per farti prendere una dipendenza basta vedere le slot machine le slot machine virtuali che stanno qui su twitch sono videogame però mi raccomando ci abbiamo i grafologhi eh ci abbiamo i grafologhi taci vostra cioè perché questo discorso può essere fatto da tutto perché ogni cosa bella ha la sua controparte brutta il calcio che in italia ue ue c'è sta la gente che si masseraga di botte e si ammazzano negli stadi il vino buono il vino ci tiene grandi esportatori di vino in tutto il mondo se te ne bevi 7000 litri ti embriaghi e ti fai scoppiare il fegato il coltello ci vuoi dare verdure e te ci vuoi accortellare cioè che cazzo di discorso è? piuttosto volete fare un veramente un bel una bella cosa prendete degli esperti veramente cioè se dovete fare sta cazzata prendete qualcuno chiamate qualcuno come sabbacu perché lì purtroppo lì non ci puoi mandare qualsiasi persona cioè io lì non ci potrei andare a fare un discorso però se tu ci mandi una persona che sa articolare un discorso sa rispondere e cazzi e mazzi vari come sabbacu sarebbe stata una cosa bella perché tu esamini la parte brutta la parte bella e tutto quello che c'è in mezzo invece qua no cocaweb sì perché la coca fidati sta più nel web non sta tra i tra i banchi del senato mortacci tua cocaweb proprio chi ti ha detto il a me sta zitto veramente così è semplicemente continuare a buttare benzina su un fuoco infinito e continuare a buttare benzina su un fuoco infinito di merda con quel sorrisetto lì prima erano i libri prima erano i cigaretti sì sì ma ci sarà sempre qualcosa ma purtroppo in italia col fatto che questo è diventato uno dei medium più grandi più grossi e che fa girare più soldi è diventato la croce rossa cioè ci tocca a sparare sopra prima era sempre quando ogni volta tanto quando uscirà gta 6 preparatevi perché ci sarà un'altra roba del genere ci sarà un'altra roba del genere sicuro cioè invece te sta a pagare tutti sti esperti del cazzo che tra l'altro ho visto poi che lui ha risposto come dicevo prima ai player inside e gli ha detto io non accetto la vostra la vostra risposta perché una di voi due ha la maglietta della della nintendo ma me stai a pia per il culo mi stai a pia per il culo per forza cioè se mi fai il senatore che mi fa una risposta del genere mi stai a pia per il culo e per ogni i kikomori ce ne sono migliaia che sono al confine che hanno quella tendenza lì ma la differenza è che se io lei chiunque di noi ha un figlio drogato in senso tradizionale sa di avere un problema e lo affronta tutti noi io stesso preferiamo non affronta vedete questo qua sta pensando ma questo che cazzo sta dicendo da un'ora è stessa fase vale sei pagata si 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 mettiti la maglietta per rispondere al senatore mi raccomando mi raccomando la maglietta se puoi metti dietro pure lo scudo di zelda il problema dei nostri figli che non sono meno drogati dal web rispetto alle droghe tradizionali perché questo ci consente di non renderci responsabili così fan tutti è l'epoca ecco no aspetta porco dio dici una cosa sensata e poi dici tre cagate questa cosa che ha appena detto tra virgoletto mi concordo nel senso come per la patente per la macchina tu devi studiare per poter prendere la patente perché se no se non studi non sai come segui da una macchina ti vai a schiantare contro un palo o peggio ti risotto delle persone stessa cosa tu in teoria da genitore dovresti metterti letteralmente a fianco ai tuoi figli e farli mentre gli aprirà come si faceva un tempo non so se qualcuno a voi ve l'ha fatto il vostro genitore gli dice no mi raccomando mentre stai su google non cliccare i banner ai lati perché quelli sono virus e sono pubblicità ci spacchiamo il computer non lo fare stessa cosa tu ti devi mettere a fianco al tuo figlio quando gli compri la playstation quando gli compri il un computer perché si senatore eh eh si gioca anche col computer non lo sapevi eh solo le console gli compri un computer gli compri un telefono che cazzo ne so oppure in genere per qualsiasi cosa tutti ci devi mettere a fianco gli devi fare Jimmy mio caro queste sono le cose che dovresti fare queste sono le cose che preferibilmente è meglio che non fai e queste sono le cose che non farle perché altrimenti ti crocchio io di legnate ok però se poi tu in questo discorso ci infili appena giochi un videogioco o ti stai drogando hai perso in partenza ma così fan tutti stiamo devastando una generazione per questo il sottotitolo del libro coca web una generazione è veramente difficile sono molte cose che si potrebbero fare e non si fanno ma arriveremo si si no ma sulle fo sulle come si chiama sui papiri direttamente insomma c'è stato un momento in cui si è preso atto del fatto che fumare fa male io fumo si ma che cazzo di paragone è fumare fa male perché dentro il tabacco e compagnia c'ha la nicotina che è una sostanza a sue facente cazzo e mazzi vale ti fa diventare i polmoni due pezzetti di carboncino ti riduce la la capacità di respiro ti fa venire il cancro ti fa venire i tumori e compagnia varia ok cioè proprio riprendendo quella frase all'inizio ti da lo stesso ormone del piacere che ti da la droga chiamasi dopamina la dopamina la generiamo in signor senatore quando seghino ti genera dopamina lo sapeva droga anzi è più facile credo sia più facile essere drogati di seghe che di videogiochi ma vabbè la dopamina la fai con qualsiasi cosa la fai con qualsiasi cosa perché vedi un po' se ti piace fare qualcosa ti genera dopamina hai visto e ti piace giocare a pallacanestro e giochi a pallacanestro generi dopamina ma chi cazzo l'avebbe detto so che fa male e credo che sia giusto che le compagnie del tabacco investano parte del loro fatturato per dire il tabacco fa male eh si perchè c'è eh però allora sta sta rompendo i coglioni ai videogame però ho stato sulle sigarette che te fanno venire cancro c'ha scritto guarda zio che se fumi te mori eh ma la te n'affanculo va ma va a cagare anzi anzi siete anche dei coglioni perchè se invece di demonizzare il videogame anime manga e qualsiasi roba di esterna la abbracciaste l'Italia starebbe molto meglio economicamente ma starebbe a voglia molto meglio è per lui che risponde ai player il santo del web si si no io non c'è nintendo c'ho la maglietta di igris non è della sony eh eh così ce la togliamo ma poi guardate stanno facendo vedere wipeout ma perchè ho fatturato a dire il web fa male ai giovani e sto presente per presentare un disegno di legge a riguardo ma al momento starei curioso di leggere il disegno di legge cioè vorrei proprio capire che cazzo che cosa ci scrive sopra sarei proprio curioso di leggerlo sto cosa tantissimo al momento esiste un limite in Italia per iscriversi ai social network? le norme si ci sono norma europea a 16 anni norma recepita dall'Italia prespinta in modo particolare al Movimento 5 è a fine no non lo fa guarda che poi oh chiamo l'antidroga eh i minori di 13 anni non potrebbero iscriversi a un social l'87 per cento dei minori di 14 anni è iscritto a un social perchè? perchè i genitori sono dei coglioni che non tengono d'occhio i figli parca madonna perchè? perchè nessuno controlla e perchè i genitori spesso sono conniventi dichiarano il falso per non avere seccature dai loro e questa è una cosa sbagliata cioè tu capisci che tutto questo nasce cioè io proprio con i miei cuginetti vedo la gente che gli appena rompono i coglioni gli piazzano davanti il telefono con quelle canzonicine di merda oppure gli piantano i candy crush in mano non va affatto così perchè fare il genitore è un lavoro vuoi un figlio? tu ti ci devi mettere a fianco punto e basta a insegnargli come si vive tra tutti i giochi usciti sullo schermo ce ne fosse uno violento sino infatti tra l'altro hanno fatto dei wipe out forse ho visto Metal Gear ma non credo schiaffetti educativi poi parte la giocata Immortale Z vs Z di fake guarda tu ci scherzi potremmo apparire dietro arriverà il momento che questo verrà giudicato riprovevole sbagliato perchè ci sarà un giudizio sociale cioè si che piazza il proprio figlio di 8 anni davanti al telefonino al ristorante per non avere seccature ha detto una cosa sensata boh zitti ha detta questo è vero questo è vero io ora non dico che uno per fare il genitore dovrebbe avere la patente ma quasi cioè già che siamo con lo sovrappopolamento e cazzi e mazzi vari secondo me se uno vuole fare un figlio deve essere anche in grado di cioè di saperlo crescere e gestirlo e tutto quanto perchè se no succedono cazzi ha detto una cosa sensata però cioè l'altri 8 minuti so cagate eh sensata ma ovvia si ma è come il non dovresti dare il goccetto di vino al ragazzino di 12 anni siamo in Italia lo fai comunque basta che gli insegni zio non ti ubriacare e non diventare un alcolizzato perchè è pericoloso era il minimo e quindi tu ne parli solo in modo negativo cioè io pensavo che qualche lato positivo in questa cosa lo avessero dato non hanno detto una cosa positiva una non hanno detto che i videogiochi ehm fanno sviluppare un'abilità mano occhio molto più elevata riflessi e poter risolvere i problemi di logica di gestione e gestione di fare diciamo prendere decisioni sotto stress in generale che magari alcuni videogiochi sono dei cazzo di film sono delle opere d'arte sono robe che trascendono quasi i film certe volte che te possono emozionare non hanno detto niente di sta roba niente e questo è il problema è che noi gamer magari cioè non è magari noi gamer diciamo sì effettivamente ci sono delle tipologie di giochi che sono problematiche non andrebbero fatte tipo il gioco d'azzardo e cose che ti devono tenere appiccicato allo schermo per tutto il giorno perché così prendi il premio per non rimanere indietro no? però il fatto è che se poi tu dall'altra parte ti trovi solo merda è un casino non puoi paragonare il web alla coca se non dici un modo per salvare tuo figlio se lo pone un limite nell'uso dello smartphone della droga guarda io le confesso io facevo il giornalista e dirigevo un giornale prima delle scorse elezioni fino a quel momento non ero sui social ma non per un pregiudizio ma non per un pregiudizio palese gazzata palese non riesco a mettermi gli occhiali cazzo i videogiochi sono il mai ubicità italiane al 50% scommetti anche tu sulla si non parliamo sto discorso credo di aver capito che è una grossa perdita in quel tempo sottratto a cose più importanti mi sono dovuto iscrivere per ragioni di trasparenza e di rapporto con l'elettorato ma credo che quando finirà tutto questo tornerò a cancellarmi ma il fatto vedi è proprio questo il problema tu non devi demonizzarlo c'è il troppo stroppia semplice rapido conciso il troppo stroppia se tu ti mangi le verdure fanno bene se te ne mangi 25 kg al giorno cagli a fischio e probabilmente esplodi ok? i social network o i social in generale sono belli perché ti mettono in contatto con tantissime persone anche dall'altra parte del mondo se però esageri effettivamente come qualsiasi cosa possono diventare una dipendenza che ti fa perdere tantissimo tempo che tu magari potresti effettivamente impegnare in cose più utili però c'è un pensiero così basilare io da un senatore me l'aspettavo visto che ha soldato esperti psicologi che cazzo erano pure quelli che studiavano la personalità attraverso la scrittura e ste cazzate tornerà volentieri alla vita reale grazie Andrea Cangini senatore di Forza Italia componente della commissione istruzione al senato che ci ha parlato del suo libro coca web sui poi ta ta per fa' sta cosa è uscito casualmente un libro e i grafologi si ma poi ma che cazzo servono i grafologi ma guarda non ma rischi della dipendenza dal web e dobbiamo tornare a proposito di vita reale dobbiamo tornare alla web sta generando mo cazzo è partito eeeh 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 che ormai purtroppo cioè purtroppo ormai il boomer medio facebook lo usa quindi la rai e compagnia non picchiettano su facebook perché ormai è di dominio pubblico perché purtroppo la rai la eeeh l'italiano medio paga un canone per vedersi letteralmente imboccata la roba che gli piace che poi non è che gli piace e all'italiano medio come al solito gli piace lamentarsi delle cose quindi mi faccio eeeh eeeh fatta al sì anzi pure di più perché io cioè io personalmente videogioco da quando ho memoria io mi ricordo da piccolino a fianco a mia sorella con la playstation 1 su tomb rider tipo i primissimi che erano cubettoni io mi ricordo cioè droga non io non ho parole no ma poi cioè non hanno preso tutto il punto cioè non hanno esaminato il punto di vista economico che è uno di quei che da cioè fa girare una quantità di soldi con i tu cioè basti che pensi a lol i tornei de lol soldi fortnite soldi poi cioè poi se tu mi dici che e su delle delle dei dei ragazzi molto giovani devi effettivamente però essi si torna sempre al discorso lì il troppo stroppia e un genitore deve stare a fianco al proprio figlio per imparargli come si fanno le cose ma sì non capisco sti rumori per non sorvissi un libro indirizzato da utenza di tg1 perché sai quale è il fatto harlock è che questa può sembrare una cazzata ma bisogna parlarne perché finché lo vediamo noi facciamo va bene altra cazzata se lo vede il nonnetto di un ragazzetto che gioca la playstation 4 il nonnetto poi se pensa che il figlio che il nipote è drogato gli va a rompere i coglioni io dice ai genitori fai oh guarda che ho visto la cosa poi i genitori sono molte volte sono dei babbacioni pure loro e quindi tu rischi facendo una cazzatina di in moltissime vite magari di rompere anche quel leggerissimo equilibrio che si è creato perché ritorniamo al discorso del quanti di noi almeno una volta nella nostra vita ci siamo sentiti dire perché non esci fuori sempre davanti alla playstation sempre da solo quando in realtà magari stavamo tutti su discord con gli amici nostri e magari i nostri momenti più divertenti ce li siamo passati su discord a scherzare come dei coglioni con i nostri amici io ho iniziato a giocare mi pare dal 2006 al gioco di mamma mia le bestemmie da piccolino perca madonna entra tua madre pom super che secco io mi vado a giocare a mario ecco tu harlock per esempio ma sai che questi problemi non ce li hai avuti perché tua madre anche era una gamer bello bello troppo proprio pattume questa è questa è pattume cioè io non so neanche come imparare è pattume non è non hanno parlato di un cazzo comunque andiamo un attimo in beatback e adesso cominciamo a giocare a a elder ring doveva durare 9 minuti il video è durato un'ora a tra poco così faccio lo stacco ok ciao a tutti su youtube o chi si sta rivedendo una live se c'è qualcuno così faccio lo stacco così faccio lo stacco e dove è? porca